Apertura di stagione positiva per il navigatore di Biala Corsa e Stefano Bruno Franco che questo fine settimana ha gareggiato a fianco del pilota Samuele Santero su Suzuki Swift classe RA5H al 46esimo Rally Il Ciocco in Garfagnana, provincia di Lucca, prima prova del campionato italiano Rally 2023. Per essere stata la nostra prima gara, ha commentato il termine il navigatore, il ciocco è andato bene, non avevamo infatti mai corso insieme e la macchina è arrivata nuova giusto prima dello shakedown e quindi con tutta una serie di regolazioni da fare e cose da mettere a posto. Prima della gara l'abbiamo pilotata su un percorso sporco e bagnato per cui ci abbiamo un po' preso la mano solo a rally iniziato, poi cambiando ancora un po' di cose siamo andati increscendo anche se in questa occasione non guardavamo il risultato finale. Santero e Bruno Franco hanno chiuso sesti di classe, dodicesimi di gruppo e al 57esimo posto nella classifica assoluta. Si sono inoltre piazzati i quindicesimi fra gli under 25, il mio pilota ha solo 20 anni e ha fatto finora 3-4 gare, ricorda il navigatore, e al nono nella classifica Suzuki. Ora andremo a correre al rally di Alba in programma a metà aprile, conclude Bruno Franco. Per Samuele è la gara di casa e quindi cercherà di ben figurare, io di non farlo esagerare. Ci saranno anche due navigatori biellesi al via alla sesta edizione del rally Vigneti Monferrini, in programma nello weekend con partenza e arrivo a Canelli in provincia di Asti. Luca Pieri affiancherà il pilota Paolo Pastrone su Renault Clio, classe A7, mentre Veronica Gaglioni navigherà il pilota Roberto Filisetti su Citroen Saxo di classe A6. La gara, organizzata dalla VM Motor Team di Valenza, si correrà su un percorso articolato su tre passaggi cada uno sui tracciati Canelli di 7.5 km, San Marzano Liveto 5.10 e Asti Secco Arione 7.20. In totale i concorrenti percorreranno 137 km di cui 59 di prove speciali. Grazie! Grazie!